Ciao, oggi vi parlerò della zalea. La zalea è una pianta conosciuta fin dai tempi più antichi per la quantità di nettere che presenta nei suoi fiori. Sono originarie di diversi paesi, dall'Europa all'Asia alle Americhe. Quella di cui vi parlerò oggi, la zalea rifiorente, è originaria dell'America, più precisamente degli Stati Uniti. È sul mercato statunitense da oltre 15 anni, per cui ne è già stata sperimentata la rusticità e l'adattabilità a diversi tipi di terreni e in diverse situazioni. In primo luogo, le azalee rifiorenti presentano una fioritura abbondante, che si espande per tre stagioni, in primavera, in estate e in autunno. Queste che vedete qui sono azalee fiorite oggi ed è il 28 di ottobre. Esistono numerose varietà di azalee rifiorenti tra cui scegliere. Noi ne abbiamo circa 10 varietà. Si differenziano per la dimensione e il colore dei loro fiori. Coltivare la zalea rifiorente è semplice come coltivare un'altra zalea da giardino. Vuole ovviamente il terriccio acido e richiede di pochissima manutenzione. Non ha mai caldo accessivo e bisogna aver cura di tenere sempre bagnato il terreno, soprattutto nelle stagioni più calde. Può essere coltivata in piena terra oppure in vaso. Non raggiunge dimensioni molto ampie, arriva circa 1,10 m di altezza e può rimanere in un vaso di 50 cm di diametro al massimo. Le azalee rifiorenti non soffrono di particolari malattie e non richiedono quindi di grande manutenzione. Basterà concimarle due volte all'anno, in primavera, in autunno, con un concime chimico alla intercessione o se preferite con un concime organico o biologico, letame maturo, sangue di bue o cornunghia. Ricordatevi di bagnare le vostre azalee anche durante la stagione fredda almeno una volta al mese, soprattutto se le piogge si fanno desiderare. Vi aspetto sul nostro sito per scegliere quella che vi piace di più. Ciao!